Ben trovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto, nuovo videocorso dedicato alla intelligenza artificiale a scuola con un focus su inclusione e sui più piccoli, perché l'intelligenza artificiale la si può proporre in maniera mediata sempre da noi, esseri umani dall'insegnante, ad esempio tramutando un disegno a mano in un brano musicale, disegno a mano realizzato in digitale. Scopriamo come. Utilizziamo Google Music Canvas o Google Musical Canvas, una piccola applicazione online che fa parte della famiglia più grande di Google Arts and Culture, un'applicazione che è anche presente e censita qui sul mio canale YouTube per far viaggiare virtualmente i nostri alunni e alunne all'interno di collezioni e musei tra i più importanti al mondo. Guardate, tramite browser ho effettuato la ricerca Google Musical Canvas, vado a scegliere il primo link e andiamo appena sarà pronto a toccare il bottone avvia esperimento, eccolo qui in bianco. Vi potrebbe invitare ad utilizzare l'app di Google Arts and Culture, ma procedete pure via browser. Questa attività è carinissima su tablet, monitors interattivi delle classi, tavoli interattivi per la scuola dell'infanzia e non solo e guardate come funziona. Noi andiamo a disegnare in questo quadrato, con pochissimi pulsanti, uno scenario che immaginiamo. Ad esempio, toccando la matitina, sposto un attimo il mio faccione, io posso anche personalizzare il colore perché voglio le onde del mare. Eccoci qua, guardate. Nel mio caso terribili, ma non per l'applicazione quanto per la mia abilità nel disegno. E all'interno di queste onde del mare, anzi, su di esse, sono terrorizzato da quello che sto per disegnare, mi dovete perdonare, io vado a proporre un pesciolino. Pesciolino che si trova su di un cielo terzo, quindi è al cospetto di un cielo terzo. Prendiamo un po' più di azzurro. Potremmo anche, vi mostro, utilizzare il secchiello, facendosi di avere, come potete osservare, ecco, un cielo terzo che riempie l'immagine. Se sono andato troppo oltre, un tocco su hundo mi permetterà di ritornare indietro. Abbelliamo ancora con un piccolo sole giallo. Eccoci qua. Come potete ben vedere, nel mio caso non è stato difficile emulare il disegno che potrebbe realizzare uno dei nostri bambini o bambine. Undo pulsante in basso per ritornare indietro di un movimento, clear, per ripulire l'area di lavoro. Ecco, io creo uno scenario. L'intelligenza artificiale è imperfetta per sua natura. Non dobbiamo averne paura, ma dobbiamo attenzionarla. Ora il modello di linguaggio cercherà di interpretare questo disegno tramutandolo in un brano musicale. Ringrazio la cara amica e collega Elisabetta Nanni, docente e formatrice che non ha bisogno di presentazioni, che ha dedicato in un post una segnalazione a questa straordinaria app, ed io, hop, ve la preparo in uno dei miei classici videocorsi. Tocchiamo il pulsante nero Generate Music e aspettiamo che il... fantasmino no, il nostro cerchietto interattivo ci dica cosa abbiamo fatto. Sta generando una soundtrack ispirata al nostro lavoro. Questo brano è lento, di pace. Lui cerca di capire che cosa abbiamo disegnato. Quindi, chi ha anche abilità di disegno, potrà. Io ho veder interpretati i propri desideri e fuori. Le onde, guardate, danno comunque l'impressione del barco. Ed ecco qua, io ora tocco la franciolina e ho compresso il mio belù. E sto osservando l'umore di questo quietonare. Metto in pausa con il pulsante a destra del triangolo rovesciato, che mi serve perché io non scarico nulla. Così anche la eventuale situazione legata al diritto d'autore non si pone. Vedrete che impiegherà qualche secondo. Se genera un errore al primo tentativo, fidatevi di Andrea Cartotto. Triangolo rovesciato per la seconda volta. Vedrete che abbiamo il tasto copia o, espandendo il menu di condivisione, potremo avere la condivisione diretta su Classroom, direttamente via mail. Ovunque io possa ospitare un link. Questa attività che richiede per il suo utilizzo solo un account Google Workspace. Se siamo in ambito scolastico, sacrosanto quello istituzionale, se il docente che in un contesto uno a uno prepara magari su un suo dispositivo la risorsa per un utilizzo dell'alunno, non essendoci qui alcuna profilazione, può far realizzare il disegno. Ebbene, ecco come. Penso a nostri alunni e alunne con sindrome di Down, alti funzionamenti. Penso anche, vedete sono io, è che ho sporcato, vado su undo questo capolavoro. Penso anche ad alunni che magari siano non verbali e abbiano in mente un disegno e vogliono provare a raffigurarlo. Ecco, qui ne ascoltano la musica. Le qui proprietà terapeutiche sono note da secoli e lascio ai colleghi ben più esperti di me sul tema, le riflessioni al riguardo. Quindi anche i colleghi di musica possono poi perdersi su ampiezza del suono, i suoni, la scala delle note e altro ancora. Ebbene, una risorsa piccola, quasi magica, che ci permette sin dai più piccoli di parlare in maniera assennata di intelligenza artificiale in classe. Al prossimo videocorso appuntamento sin d'ora con il vostro Andrea Cartotto. Ciao!